musica bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e oggi ragazzi siamo nel pieno della settimana numero 2 di fortnite e voglio mostrarvi la posizione esatta dello standardo segreto che ci verrà regalato al completamento di tutte le sfide come sapete ragazzi non so se l'avete già vista oppure no ma la schermata di caricamento eccola qua ragazzi della settimana numero 2 ci mostra una meravigliosa links intenta a disegnare qualche progetto come ci suggerisce appunto l'immagine ma l'immagine ci suggerisce anche ragazzi la posizione come vedete disegnata nello schermo c'è proprio uno standardo con la sua faccia e dov'è questa location è molto semplice ragazzi come vedete sto atterrando a rampe ghiacciate una delle nuove location che sono state introdotte con la nuova season basta solo raggiungere ragazzi questo edificio entrare da questa porta girare subito a sinistra ed ecco qua ragazzi il punto esatto che è evidenziato nell'immagine della season della settimana numero 2 il banner segreto dovrebbe apparire indicativamente qua beh ragazzi questo era un mini tutorial io vi ringrazio per averlo guardato mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in live ciao 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 ciao